Le fine di questo gruppo di volontari di cui il servizio è indiscutibile, ripeto, il nostro giudizio di livello. I titoli provinciali individuali per categorie allievi, junior, promesse e senior. Voi, voi, voi! Voi, vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni! Vieni, 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 vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! 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 Vieni, vieni!